Dopo la tragedia dei migranti a Cutro, anche il capoluogo è sceso in piazza con un sit-in dinanzi alla prefettura organizzato dall'Assemblea per la Pace dell'Acqua e gli appuntamenti che si sono svolti contemporaneamente in ogni parte d'Italia. Associazioni, sindacati e movimenti chiedono che dopo il clamore dei primi giorni non scenda l'attenzione su questo dramma, bisogna andare oltre insomma il cordoglio e la solidarietà e dire basta dicono alle politiche seguite negli anni dai vari governi sulle questioni migratorie. Le associazioni dicono basta alla criminalizzazione delle ONG, al mancato rispetto delle convenzioni internazionali sui salvataggi in mare, alla mistificazione dei motivi che spingono donne, uomini e bambini ad affrontare rischi inenarrabili nella speranza di un futuro migliore e basta dicono alle giustificazioni su ritardi e mancati soccorsi. Innanzitutto chiediamo che ci sia un segno di umanità nella politica, di rispetto delle vittime e delle persone che prendono il mare o attraversano le terre in ricerca di una vita e basta. Rischiano la loro vita e spesso la perdono e una politica disumana come quella del governo, dei governi e come quella espressa anche nelle parole ciniche del ministro intanto non aiuta. E poi servono scelte politiche radicalmente nuove, servono veri corridoi umanitari perché per combattere gli scafisti e il traffico di esseri umani l'unica soluzione è quella di far arrivare legalmente, legittimamente le persone che hanno bisogno. Questo deve fare l'Italia, questo deve fare l'Europa e questo chiediamo oggi.